Il calcio è ancora visto secondo me sotto una lente maschilista, il che porta spesso a paragonare il calcio femminile al calcio maschile. In realtà non sono due sport paragonabili, anzi è come se fossero due discipline completamente diverse. Le regole sono le stesse, i regolamenti sono le stesse, le misure del campo sono quelle. Dall'altra parte cambiano tanti aspetti, cambia l'aspetto atletico, cambia l'aspetto fisiologico, cambia l'aspetto anatomico.